oggi pinza avete capito bene non pizza ma pinza romana oggi in versione ripiena con indivia ripassata in padella con olivi da giasche pinoli e alici per prima cosa prendiamo la nostra indivia già lavata e ne prendiamo una parte giusto quella che ci servirà per la ricetta andiamo a metterla dentro la pentola con acqua bollente per circa un minuto e mettiamo la nostra indivia subito a molla d'acqua e ghiaccio arrestiamo la cottura perfetto adesso filo d'olio e subito qualche alicetta facciamola sciogliere nell'olio adesso possiamo aggiungere i pinoli li facciamo un tostare lasciamo cuocere ancora un po adesso le olive e prepariamoci l'indivia guardate i pinoli sono perfetti sono tostati andiamo a mettere la nostra indivia all'interno della padella fatela scolare bene quindi che pronta andiamo a metterla in una ciotola e subito un velo di farina prendiamo le palline e li andiamo a stendere delicatamente come abbiamo sempre fatto possiamo fare anche questo movimento con le mani ad andare ad allargare la pasta in questo modo come avete notato abbiamo preparato due palline la prima lo stesa è della nostra base mentre quest'altra che è un po più piccolina il coperchio andiamo a stendere anche il coperchio questa volta il coperchio lo andiamo a stendere in un modo un po diverso togliendo le bolle superficiali perché non si dovranno bruciare in forno quindi andiamo a stendere in modo un po più piatto il nostro panetto bene teniamoci il coperchio vicino la base prendiamo un filo d'olio e lo mettiamo sulla base prima di mettere il coperchio in questo modo la cottura interna sarà migliore quindi andiamo a sovrapporre i due strati mi raccomando non fate andare il coperchio oltre la base ok un po un po più interno di nuovo olio sopra e andiamo a infornare con un pizzico di sale cuociamo diamo un'occhiata alla pinza che mi sembra pronta perfetto quando raggiunge questo colore la possiamo tirare fuori dal forno guardate bene adesso un passaggio fondamentale da fare a questo punto è aprirla immediatamente guardate quanto vapore esce fuori questo vapore nemico quindi adesso possiamo aggiungere gli ingredienti che vogliamo non appena si sarà leggermente raffreddata per chi ama i sapori forti consiglio l'aio nel soffritto di oggi non l'ho messo ma potete farlo senza problemi andiamo a farcire la nostra pinza quindi prendiamo la nostra indivia e la mettiamo abbondante su tutta la base aggiungiamo tutte le olive i pinoli un'altra variante interessante con la provola affumicata provatela mettiamo di nuovo il coperchio e a questo punto tagliamola con un coltello sentite la croccantezza impiattiamo e aggiungiamo un filo d'olio così avrà un bell'aspetto lucente invitante ecco qua possiamo aggiungere anche un pizzico di sale ecco qui la nostra pinza è pronta a a a a a a a Grazie.